Se ho capito bene, dovrebbe essere nei pressi di questa stazione, questa è una stazione, raga Potrebbe essere qua sotto in realtà, però non ne sarei tanto sicuro Oppure là sopra Fatemi vedere bene, allora C'è scritto che sta nei pressi del ponte e della stazione Potrebbe essere questa Potrebbe essere questa Andiamo un po', eh C'è scritto, sulla guida che avevo trovato c'era scritto Se volete vedere dove è stato preciso aprite qua Non l'ho aperto, lo voglio esplorare, lo voglio trovare da solo Chissà dove cazzo sta Fatemi un po' vedere Bisognerebbe stare là sopra Il cavallo ce la fa stare qua? No, no, ce la fa Allora Vediamo se è stata a sta parte del sentiero Eccola Tiè È segnalata sulla mappa Abitazione misteriosa Chissà che ha vissuto qui No Ma perché? Conte a Baggins Cioè dove Se ci vengo forse a una determinata ora Magari è aperto O no? Non si può fare un cazzo qua? Sai che cazzo? Che è sta roba Ciao sloveno Ciao valter Ragazzi ho trovato l'abitazione di hobbit La vedete? Che spettacolo Ma il fatto è che Grandessa d'uomo però Non ci si può entrare Uccidi gli urugai Fatemi entrare Chi è che ha spaccato i vetri? Qua secondo me C'è stata una quest O qualcosa da fare Regà Perché non è possibile Che ci stanno tutti sti simboli Sugli alberi Secondo me Qua ci si arriva Con una quest Sai che cazzo Sa quei simboli Sugli alberi Stanno bene Ehm E' una mappa E' una mappa nuova Di Call of Duty 4 E' una mappa nuova